Si intrattiene, oggi è diventata una donna, si è sposata, è mamma ed è veramente sempre più brava. Signori vogliamo accogliere con un bel applauso Gigliola Cinquetti. Ecco qua Gigliola Cinquetti, nuovo formato. Ciao Gigliola, come stai? Bene, grazie. Signori, ma è veramente diventato un figurino. Onestamente devo dire, sei dimagrita in un modo incredibile. Cos'hai fatto? Una cura per dimagrire? O eri già così prima? No, sono sempre stata così. Forse perché ti vestivi con tante cose, allora non si riusciva a capire qual era la tua stazza. Ecco, invece vediamo che sei proprio un figurino, una modella, direi. Anche tu hai seguito l'esperimento che abbiamo fatto adesso, hai visto? Sì, sì. Una cosa che fa venire la pelle d'occa, direi. Ero molto impressionato. Molto impressionato, una cosa molto bella. Senti, dobbiamo parlare di te adesso, perché tu sei venuto qui come protagonista della nostra sigla, come protagonista della nostra copertina. Tanto ti ringraziamo per aver collaborato con Baldamembo. Grazie. Sono io che ti ringrazio per la copertina e per avermi invitato alla tua trasmissione. D'altronde tu sai che tutti gli anni io ti voglio nella mia trasmissione, anche perché quest'anno abbiamo scoperto che la Gigliola Cinquetti non è solo una brava cantante, ma è anche una brava ballerina. Io non lo sapevo che sei una brava ballerina. Del liscio. L'abbiamo vista nelle trasmissioni di Enzo Tortola. Diciamo che ballare è una cosa che mi è sempre piaciuto vedere ballare e ho sempre invidiato le persone che si sanno muovere, che sanno ballare. Ecco però... Quindi aspettavo soltanto un'occasione per provarci anch'io e l'occasione è arrivata. L'occasione è arrivata e hai dimostrato di essere veramente brava. Balli tutto, il tango, la mazzurca, tutto fai. Ma anche tu mai che pensi? No, io veramente sono... No, no, io sono... Quando vai in discoteca, ti scateni però. Sì, ma tanti anni fa quando ero bambino, oramai non ci vado più, oramai ho i dolori reumatici, quindi non ci vado più. Senti, Ola, noi vorremmo... Pensa, tu ti chiami Ola, ti ricordi, ti chiamavo Ola, e la nostra concorrente, che in questo momento è in ottima posizione per conquistare il titolo, si chiama Ola, di cognome, con un H, viene da Budapest, hai capito? Allora io le faccio tanti auguri. Ecco, le fai tanti auguri, farai il tifo per lei, anche perché rappresenta il tuo sesso. Senti, noi vorremmo che questa sera tu ci cantassi, non so, un putpuri di canzoni, ci facessi anche un ballo magari, però come facciamo? Perché io non vorrei che tu avessi cominciato quel discorso perché volevi che io ballassi con te, non ci mancherebbe altro. Non hai un ballerino, un tuo partner? Ecco, adesso comunque sì, vi presento il mio partner, che si chiama Luca Nannini. Luca Nannini, per bacco. Eccolo qua, Luca, lui è il tuo partner fisso oramai, mi pare, no? Sì, mi ha molto aiutato in questa mia nuova esperienza. Ho capito. E poi naturalmente il merito maggiore di questo mio nuovo modo di presentare le canzoni è della coreografa Lucia Parise. Ho capito, è un bravo ballerino lui? Beh, insomma, se riesce a far ballare me vuol dire che è veramente bravo. E lei è una brava ballerina? Buono, è bene, allora iniziamo subito la prova. Allora, Giliola, che cosa fai? Ecco, vi presento un putpourri di canzoni tratte dal mio disco Porto Ballo, quindi diciamo è un piccolo riassunto del disco. Insieme alla tua esibizione di ballo? Sì, c'è anche un piccolo particolare, siccome per la prima canzone io dovrei assumere un'aria un po' fatale, cosa che non mi è molto congeniale, come sapete. Sì, avrei bisogno di una sigaretta. Una sigaretta? Allora il tuo ballerino ovviamente già saprà, ce l'hai l'accendino, benissimo. Allora signori, cediamo la parola a Giliola Cinquetti. Al vecchio bar Sivigliano 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 Sivigliano